I carabinieri della compagnia di Agropoli hanno posto agli arresti domiciliari un 66enne di Castel San Lorenzo, già destinatario del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati da un noto medico del posto. La misura di aggravamento è stata emessa in quanto l'uomo, lo scorso 10 ottobre, ha violato tale prescrizione. La vicenda risale all'inizio del mese di ottobre, quando il 66enne, brandendo un bastone in ferro, ha aggredito per futili motivi un noto medico del posto, colpendolo alla testa e in vari parti del corpo. I militari della locale stazione, dopo le formalità di rito, hanno sottoposto l'uomo agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.